Per il 33% degli italiani questo bellissimo periodo dell'anno può trasformarsi in un autentico calvario. Naso che cola, starnuti, occhi che lacrimano. Su un campione di mille italiani il 40% dichiara di soffrire di una qualche forma allergica e le proiezioni a livello internazionale stimano che entro il 2020 le allergie interesseranno la metà della popolazione, secondo la società italiana di allergologia. E primavera uguale allergie ormai è solo un luogo comune. Anche se si associa la primavera con l'allergia ormai le allergie si diffondono in qualsiasi periodo dell'anno. Quindi ci sono allergie da pollini invernali, pre-primaverili, primaverili, estivi e quasi autunnali. Quindi gli unici mesi in cui non ci sono allergie da pollini sono novembre e dicembre per lo più. Come si deve comportare in questo periodo il paziente allergico? La prima norma è tenere, che capisco che è più facile dire che fare, ma tenere le finestre chiuse nel periodo dei pollini a cui uno è allergico. Quando le donne vedono le belle giornate, cosa fanno? Aprono le finestre e tengono sempre le finestre aperte. Questo comporta che i pollini che sono fuori entrano in casa e quindi il paziente poi è costretto a respirare i pollini in casa, anche quando fuori non si trovano perché magari ha piovuto e quindi sono stati abbattuti al suolo. Seconda cosa, per lo stesso motivo, quando le donne vedono le belle giornate, mettono fuori tutte le cose del letto sul davanzale, lì si depositano i pollini e quindi chiaramente poi quando si va a letto si respira i pollini e la mattina si esternutisce. Terza cosa, infine dopo una giornata passata all'aperto, noi senza saperlo, ci riempiamo di pollini e quindi i pollini si appiccicano nei capelli, si possono appiccicare alla pelle e si possono appiccicare agli indumenti, specialmente barba, baffi eccetera. Quindi è buona norma quando si rientra in casa, se è possibile farsi uno shampoo in maniera da rimuovere tutti i pollini che si appiccicano nei capelli, lavarsi molto spesso il viso con acqua corrente e lasciare quantomeno gli indumenti fuori dalla camera del letto. Esistono terapie specifiche a riguardo? La terapia consiste sia nello spray nasale, che è uno steroide topico, sia nell'antistaminico che devono essere presi però tutti e due insieme, molti pazienti anche qui sbagliano perché prendono solo l'antistaminico, evitando quindi di reintegrare e curare il naso che invece deve essere a posto e questo si ottiene solo attraverso l'uso dell'osteroide topico. L'altra cosa importante sono i lavaggi del naso che chiaramente, specialmente se fatti la sera, hanno un effetto meccanico per cui rimuovono i pollini che durante la giornata si posizionano al naso.